già da quello che mi ha raccontato fino a questo momento mi sembra di capire che il sito abbia un potenziale archeologico molto interessante cioè tra villa produzioni laterizi e terme mi sembra che il punto di partenza della ricerca era molto promettente si infatti nel corso del tempo i temi della ricerca e i motivi di interesse sono anche aumentati però direi di procedere con ordine quindi se sei d'accordo posso iniziare a raccontarti tutto quello che abbiamo capito fino ad oggi in ordine cronologico che dici ma mi sembra un'ottima idea allora da dove iniziamo io direi di iniziare da qui dall'ambiente 5 in questo ambiente che ci sembra essere uno spazio esterno abbiamo ritrovato le tracce del palosuolo e dell'insediamento più antico come puoi vedere questo strato limoso di colore giallo il 332 può essere considerato come palosuolo quest'area potrebbe collegarsi immediatamente a ridosso del limite estremo del sistema lagunare degli stanni di piombino questi due muri 274 283 possono essere messi in relazione con un primo nucleo di abitato precedente alla fase romana essi posano direttamente sul palosuolo non sono mai conservati oltre il livello di fondazione sono costruiti con i pezzi di una fornace ma il 283 ha una forma veramente strana è semicircolare ma potrebbe essere ad esempio il relitto di un'antica fornace è un'ipotesi che abbiamo valutato però in effetti non c'è niente che ciò possa confermare e mancano tutte tipiche tracce di arrossamento quindi di questo periodo più antico le uniche testimonianze effettive che abbiamo sono date alcuni reperti ceramici dati al quinto e al quarto secolo avanti cristo questa ceramica però proviene dalle ricognizioni quindi ci dà soltanto un'indicazione cronologica e non sappiamo collocarla precisamente all'interno del sito e speriamo che nel corso delle prossime campagne di scavo usciranno altre informazioni su queste fasi più antiche dello scavo beh sì certamente ma e dopo cosa succede quindi dopo ci sembra di vedere arrivare i romani abbiamo alcune monete erratiche che ci testimoniano la loro presenza nell'area guarda per esempio questa con la parola della nave questa mi sa che l'ho già vista si data per caso alla verso la metà del terzo secolo avanti cristo sì esatto e anche le altre monete che abbiamo rinvenuto in questa zona si datano più o meno al terzo secolo avanti cristo a questa fase prima romanizzazione assegniamo anche questi due muri nell'ambiente 5 il numero 17 e 18 anche loro come i precedenti sono stati costruiti direttamente sul terreno vergine e poi rasati a livello delle fondazioni in questo caso però la loro tecnica costruttiva ricorda molto da vicino quella utilizzata nello stesso periodo a popolonia quindi potrebbero essere parte di una struttura di dimensioni considerevoli forse un impianto produttivo se poi prendiamo per buona la data che ci forniscono le monete potrebbe arrivare una conclusione davvero interessante ovvero le tracce di questo insediamento si collocherebbero più o meno nella stessa epoca della presunta costruzione della via aurelia nel territorio di popolonia e quindi sarebbero una testimonianza diretta della romanizzazione in questa area in più tutto questo è particolarmente interessante alla luce di quello che succede nel sito nei periodi successivi ma quindi devo pensare che l'aurelia abbia un ruolo molto importante in quest'area e come ma ora andiamo a vedere più nel dettaglio per iniziare ti posso dire che questa fase è ben attestata da questa struttura come vedi è disposta secondo un'asse est ovest ed era chiusa all'interno dei grandi muri di cui ti ho appena raccontato si riconosce bene perché i suoi muri che sono legati da terra sono formati da pietre di dimensioni minori rispetto a quelle del periodo precedente ma vedo che è diviso in più ambienti ma che cos'è come l'avete interpretato sì in effetti doveva avere almeno tre stanze si affacciava subito su questo spazio aperto coperto da ghiaia l'interpretazione non può essere sicura ma noi pensiamo si possa trattare di una fattoria nata con l'arrivo dei rumori nella zona molto interessante ma secondo me la parte più interessante deve ancora venire sì sì ma procediamo con calma intanto inizio a raccontarti le cose in ordine stavo dicendo di questo spazio aperto coperto da ghiaia sicuramente è uno dei punti nodali per quanto riguarda questa fase del sito perché quando c'è la fattoria è un cortile mentre successivamente potrebbe essere una strada inoltre le trince scavate nel 2004 più a sud dell'attuale limite di scavo ci hanno fatto ipotizzare che l'area occupata da questo cortile potrebbe essere raddoppiata e non bisogna nemmeno scattare la possibilità che dall'altra parte si possa trovare un'altra fattoria beh se nella prossima campagna scaveremo ancora verso sud lo sapremo sicuramente ma questa per questa fattoria avete una datazione in linea di massimo sì sì ci siamo ci siamo fatti un'idea sicuramente questa fattoria vive piuttosto a lungo perché all'interno vediamo sia un rialzamento dei tempi mentali sia la ridefinizione degli spazi interni la cronologia assoluta dovrebbe essere compresa tra la metà del terzo secolo e il primo secolo avanti cristo bene quindi mi sembra che le fasi del sito siano abbastanza chiare certo queste più antiche queste altre più antiche sono meno indagate ancora però mi sembra la strada sia quella giusta vedo però da questa pianta che qua ci sono molte altre ambienti e strutture di cui ancora non mi hai parlato sì è vero ci sono molte altre cose ma non sarò io a parlartene tra poco dovrebbe arrivare maria sole una nostra collega che si sta occupando di studiare le fasi successive del sito in particolare la marcio quindi siccome lei dovrebbe avere un po di tempo libero preferisco che sia lei a raccontarti queste fasi per zeus siete organizzatissimi allora io intanto che aspetto questa ragazza prende un po di appunti su quello che mi hai detto sì infatti e comunque ricorda sempre che se vuoi altre informazioni per andare a consultare il nostro viki che è www uomini e cose a dignale.it slash viki su cui trovi molti dettagli sullo scavo ok dai lo consulterò sicuramente probabilmente allora io torno a studiare i miei coach va bene ok aspetto sono una prossima ora Grazie a tutti.